buongiorno a tutti dal primo giorno di fiera di bmt di napoli io mi chiamo marco donofrio sono il sales manager italia di air arabia siamo qui finalmente perché si riparte la prima fiera dopo dopo tutto quello che è successo e noi ripartiamo ripartiamo sull'egitto ripartiamo sul marocco ripartiamo con una programmazione social machine in particolare da napoli che è partita il 14 di giugno e tutto il nostro network è ripartito per il marocco da sette aeroporti italiani anch'esso a partire dal 15 giugno noi siamo una compagnia che come tutti sapete ci caratterizziamo per essere un low cost un low cost però di qualità che vola principalmente da sette aeroporti in tutta l'italia da catania venezia i nostri porti principali sono catania napoli pisa bologna torino cuneo bergamo e venezia in particolare dall'app di bergamo abbiamo oltre al marocco anche moltissimi voli sull'egitto abbiamo voli da bergamo su charme chic abbiamo voli da bergamo su alessandria d'egitto e voli da bergamo sul cairo la new entry di quest'estate è la tratta bologna charme che opererà da fine luglio ci auguriamo che questa sia una buona una buona ripartenza e che tutta la gente che stiamo vedendo partecipare a questa fiera molto attivamente con molto interesse ci dia la spinta a tutti per ripartire veramente col piede giusto e vedere a bordo dei nostri aerei e nelle località turistiche tante persone grazie e buona giornata a tutti